Già abbiamo parlato dei suicidi nel carcere di Montorio, provincia di Verona tre suicidi in un mese di detenuti, tutti a loro modo con problemi psicosociali il tutto nella casa circondariale di Verona lo stesso penitenziario ricordiamo dove è stato Filippo Turetta l'assassino di Giulia Cecchettin ma a noi oggi interessa intercettare questo triste e drammatico fenomeno quello dei detenuti suicidi che dice essere 62 reclusi che si sono tolti da vita nelle carceri italiane nel 2023 il nostro ospite è Marco Costantini è il segretario di Sbarre di Zucchero è un'associazione di volontari che si occupa ebbene della realtà carceraria che aiuta i detenuti anche di Montorio ma ripeto da lì partiamo per parlare con Marco del fenomeno come sempre ringraziandovi per essere ancora con noi dopo la sigla il nostro saluto dunque a Marco e il ringraziamento per aver accettato Marco il nostro invito buona giornata grazie a te e grazie a tutti i radioascoltatori che ci seguono senti Marco la vostra associazione partiamo da qua da un anno e mezzo in seti in prima linea tutela di reclusi ed ex reclusi nata per arginare l'escalation di suicidi dopo il tragico gesto lo ricordiamo proprio nel carcere veronese di Montorio nell'agosto del 2022 dunque un suo giudizio intanto su quello che sta accadendo su quello che anche noi cronisti non possiamo fare altro che documentare per poi fare la riflessione giusta ecco il suo primo commento a questo fenomeno qual è Marco? allora innanzitutto il fenomeno del suicidio in carcere negli ultimi tre anni ha avuto un'escalation molto importante io parto da un presupposto che è fondamentale per capire il problema quando una persona viene messa in carcere perché ha rotto il patto sociale importante con la società e non ha correttamente eseguito le leggi lo Stato lo prende in custodia una volta che lo Stato ti prende in custodia con tutti gli annessi e connessi cioè nel senso ti deve garantire il servizio sanitario ti deve garantire i rapporti con le famiglie e tutto il resto dopodiché tutto ciò che accade affinché una persona si suicida questo non è più un suicidio ma questo è un omicidio di Stato perché è lo Stato che ti ha in carica allora le persone che ultimamente si suicidano così facilmente diciamo questo è perché hanno a parte quell'ultimo di Montoglio ci sono delle situazioni un po' strane e i detenuti della sezione hanno fatto un esposto alla magistratta di sorveglianza firmandosi perciò mettendoci la faccia e rischiando molto molto in questo momento ma su tutte persone che hanno delle fragilità o di tossicodipendenza o di problemi psichiatrici che in carcere non vengono curati c'è anche c'è stato Marco mi perdoni quella denuncia quella esposta di cui lei è parlato ma prima c'è stata anche una lettera dei detenuti molto significativa che tra l'altro dice chiediamo un intervento incisivo da parte dell'autorità giudiziaria e di tutte le istituzioni della Repubblica per fare la massima chiarezza e scongiurare futuri episodi simili evitando di bollare questo ennesimo suicidio solo come un momento di debolezza e di sconforto sì perché dopo il terzo in un carcere dopo il terzo in un carcere dove la direzione non fa assolutamente nulla per garantire l'incomunità di persone recluse non ci scorsiamo che sono persone che sono in custodia dello Stato cioè questa è una cosa fondamentale che tutti cercano di sviare ma non è così cioè le persone quando vengono recluse sono in completa custodia dello Stato come fa una persona detenuta a uccidersi e nessuno vede niente questa è la prima domanda che vi dovete fare perché le guardie, voi sapete la notte ogni tanto passano a fare il giro di ispezione per vedere se è tutto normale nelle stanze perciò accendono la luce aprono un spioncino passano, guardano e se ne vanno questi riescono sempre a riuscire nel loro intento sono tre i punti fondamentali primo il sottorganico il personale penitenziario è sottorganico non soltanto a Montorio ma in tutte le carce italiane anche perché fanno non solo il servizio di custodia ma anche il servizio di diciamo di di fare le sintesi di capire com'è il detenuto tutte queste cose un po' da psicologo tra virgolette il servizio sanitario in particolar modo i psichiatrici o i psicologi sono veramente pochi e vanno a giorni alterni allora se c'è in un reparto 30 persone che hanno problemi psichiatrici e ci vanno soltanto una volta a settimana per due ore il martedì cioè nessuno riesce a guardare 30 persone in due ore oppure li guardano gli danno tante di quelle medicine che alla fine sono più tossicodipendenti dei tossicodipendenti perché poi dipendi dalla medicina nella mia lunga esperienza in carcere posso dire le persone che fanno uso di farmaci per dormire anche due o tre giorni insieme attaccati ce ne sono molti Marco lei ha detto lei appunto della sua lunga permanenza in carcere dunque questa esperienza diretta che non va trascurata il fenomeno del sovrappolamento lei sa da quanti anni io faccio il giornalista da molti anni ma mi creda Marco uno dei miei primi interventi circa 30-35 anni fa fu proprio sul carcere già allora si parlava di sovrappolamento adesso è elevato a rischio per la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari la sua esperienza e la sua visione a riguardo di questo tema qual è? Allora innanzitutto 30 anni fa il carcere era costituito da persone diciamo che attenzione che è andato via l'audio provi adesso diciamo rispetto a 30 anni fa il carcere oggi 30 anni fa era costituito da persone che vivevano di reati e c'erano le cosiddette bande ovvio dicendo erano gli anni insomma degli anni 70-80 c'era il terrorismo c'era un altro tipo di persone in carcere oggi il carcere è una discarica sociale cioè tutto ciò che la società mette ai margini va in carcere cioè io ho visto fare per esempio per sette etti di parmigiano a un vecchietto di 75 anni sette mesi io dico ma com'è possibile che uno stato come il nostro dove parlano di libertà dove parlano di costituzione l'articolo 27 è un articolo che secondo me nessuno lo ha mai letto profondamente e io posso affermare anzi un'altra cosa importante cosa dice il 27 Marco lo ricordi che che praticamente la pena deve essere gradualmente portata a un inserimento nella vita sociale ma questo non avviene perché io non mi sono mai drogato mettiamo questo come principio sono stato in carcere per altri finanziari per altre cose allora per poter fare la sintesi sulla mia persona per poter prendere i benefici non c'erano psicologi a disposizione mi hanno fatto fare i gruppi con la tossicodipendenza cioè in un cerchio tutti i seduti tutti i seduti i ragazzi allora quando toccava a me allora mi dica perché lei si drogava e io guarda io non mi sono mai drogato anzi sono donatore di sangue ho sempre donato il sangue quando stavo fuori come faccio a parlare di tossicodipendenza se non mi sono mai drogato cioè posso capire vivendo poi tanti anni con le persone che hanno uso parlandoci qual è la mia idea che mi sono fatto ma non posso parlare in prima persona di una cosa che non ho ma la cosa assurda in tutti quegli anni nessuno mi ha mai detto perché hai fatto i reati secondo me bisognerebbe anche chi va in carcere a fare un lavoro come questo che è importante psicologo gruppi di terapia qualsiasi cosa chiedere alle persone perché fa il reato da dove nasce questo istinto per me era diventata una sfida perché volevo alzare sempre di più la sticella per me peraltro potrebbe essere perché nasce io nella mia famiglia siamo quattro fratelli tutti e cinque cioè siamo cinque quattro grandi lavoratori e io purtroppo ho sempre lavorato ma ho fatto anche i reati ma se uno nasce in una zona io parlo di Roma perché conosco bene Roma ma posso parlare di altre zone se uno nasce ecco a Scampia o più De Torbella Monaca chiaramente non potrà diventare mai un magistrato o perché è l'ambiente che ti circonda che è diverso come chiaramente uno che nasce ai Parioli ha più possibilità che diventa notaio e magistrato che diventa un delinquente perché prima i figli di magistrati negli anni 70 quando lei ha fatto le prime interviste erano quasi tutti terroristi allora è questo che è cambiato il carcere il carcere oggi non c'è più il detenuto perché ha fatto una serie c'è quello che spaccia la droga perché a casa non c'ha da mangiare c'è quell'altro che va a fare una rapina perché purtroppo le condizioni familiari sono disastrose c'è quell'altro che che non c'ha da dormire e allora viene in carcere 7 mesi fa il furtarello per stare 7 mesi al caldo e poi riuscire in estate ci sono tante situazioni il carcere quando è così abbandonato al volontariato perché il volontariato è l'unica cosa che funziona bene dentro un carcere se io ho fatto questo mio percorso anche interiore importante lo devo a tutte le persone che io ho conosciuto in carcere ma non allo Stato perché il carcere è il posto più illegale io lo dico a chiare lettere perché io non ho peli sulla lingua è il posto più illegale che esiste nel nostro paese perché permettono a società di vincere appalti senza fare gare perché permettono a predi cappellani e del resto di fare business dentro al carcere quando io dico queste cose ho le prove non le dico tanto per ho le prove io aspetto una denuncia però ancora non mi è mai arrivata sono cinque anni che sono fuori San Marco che sta facendo delle accuse ben precise senta però nella Costituzione rimane ancora presente che le carceri devono avere lo scopo di recuperare alla comunità ai reclusi sottolineano anche il gravoso ed incommiabile impegno profuso dalla polizia penitenziaria e qua parliamo allora anche di un altro tema che è quello del sottodimensionamento del numero del personale della polizia penitenziaria è reale secondo la concreta esperienza che lei si è fatta e si fa? Ma sì certo che è reale io anzi il rapporto con pensi con il mio ispettore dove io nel carcere ho fatto tante cose dalla radio ho scritto libri e tante altre cose ma la cosa più importante ho cercato di riprendermi i miei diritti io avevo un diritto importante che era il diritto al voto che mi è stato mai tolto però il carcere non mi faceva votare perché qual era la loro cosa mi dicevano è perché dove abiti non mi danno la cartella e no tu non devi andare dove io abito per prendere la cartella perché dopo tanti anni che tu hai come persona detenuta l'indirizzo diventa il carcere perciò tu devi andare al comune di residenza del carcere e chiedere la cartella per poter votare e nessuno ci andava io siccome mi hanno fatto chiudere gli stati generali della giustizia col ministro Orlando io davanti a tutti ho detto lei non ha le palle per affrontare un tema così importante che è la riforma carceraria quello era veramente una grande riforma che avrebbe cambiato radicalmente il carcere ma non hanno avuto le palle perché chiaramente non porta voti il carcere il carcere è un argomento guarda infatti la Meloni come lo tratta che non porta voti non gli può interessare a nessuno oggi le carcere mentre prima un po' la sinistra difendeva i detenuti c'era Marco per fortuna c'era Marco Pannella oggi non c'è né Marco Pannella e né più la sinistra oggi i detenuti sono completamente lasciati soli ecco perché il sbarre di zucchero ci mette la faccia e siamo tutte persone che abbiamo vissuto il carcere perché solo chi ha vissuto il carcere può capire quando dice qualcosa che è qualcosa di vero Marco perdoni la polizia peninsiaria ci arrivo la polizia peninsiaria è sotto numero perché fa dei turni assurdi montano smontano montano smontano li vedi sempre lì allora ti fai pure la domanda ma questi in una famiglia non ce l'hanno perché se tu stai 24 ore su 24 qui tant'è vero non ci sono più le guardie sui muri di cinta ecco perché ci sono gli evasori gli evasori ecco perché ci stanno i droni che buttano dentro le cose non solo i droni cioè anche la polizia peninsiaria in più c'ha il compito perché prima non ce l'aveva oggi c'ha il compito di relazionare per dare perché ci sono pochi educatori per dare poi la relazione all'educatore per poter entrare nella range dei benefici di legge allora la sua analisi la sua analisi è molto cruda ma si comprende bene che ha origine dalla diretta esperienza conoscenza e l'osservazione che voi fate ricordiamo che Marco Costantini è il segretario di sbarre di zucchero che è questa associazione di volontari che ci sta producendo veramente in un grande lavoro nelle varie carceri italiane tra cui quello di Montorio di Verona da cui siamo partiti senta Marco abbiamo davanti ancora tre minuti non di più io ancora le ringrazio per aver accettato questo nostro invito ma vista la situazione vista la sua esperienza visto il vostro lavoro di associazione che cosa fare cosa fare di fronte a questa situazione guardi la nostra situazione è stata ricevuta dal vice ministro della giustizia noi non abbiamo chiesto cose eclatanti perché tanto sapevamo che era era un muro perché oggi il governo non pensa ai detenuti ma sono tre cose che si possono fare in tempini velocissimi riconcedere riconcedere perché prima è stato fatto poi è stato tolto le telefonate e le videochiamate perché una telefonata a volte perché quando uno è un detenuto Marco stia attento perdoni si sta tagliando un po' con la parte ecco bravo grazie scusi quando un detenuto entra in cella che ha avuto un rigetto di un qualcosa che ha chiesto dal magistrato oppure l'avvocato gli ha portato brutta notizia oppure gli è morto un familiare a me mi è morto mio padre ed è bruttissimo quando ti arriva questa notizia in carcere detta da una persona che tu non conosci io penso che la telefonata può salvare tante vite perché quando uno è così che si sente solo e disperato può chiamare un amico un avvocato un familiare forse quel momento gli passa invece se tu hai una telefonata a settimana di 10 minuti e se a volte non ti rispondono hai perso pure quella telefonata questo ti lascia molto amaro dentro e ti porta nello sconforto questa è una cosa una cosa fondamentale perché il 60% dei detenuti che entri in carcere si lascia con le mogli diventano delle situazioni disastrose in famiglia qualcosa che sia non dico una camera affettiva ma qualcosa di importante la Cassazione deve decidere a giorni ma ancora non ha mandato la sentenza sull'affettività in carcere e terza e ultima cosa non chiudere i regimi di di semi perché adesso stanno chiudendo tutte quelle sezioni dove c'è un po' di più di libertà perché la cosa più facile per tutti gli istituti per tutti i direttori è quello della chiusura cioè io invece di lasciarti la cella aperta per otto ore te la chiudo e stai soltanto quelle due ore e mezza fuori ecco se queste cose possono rientrare nell'ordine sicuramente qualche altra persona non farà questi gesti non vale la pena cioè la vita è tanto bella non vale la pena perderla per un periodo di carcere che se uno lo fa bene diventa un'altra persona sono tre cose apparentemente semplici invece molto concrete soprattutto vissute come Marco Costantini ci ha detto con noi è stato il segretario di sbarre di zucchero Marco saremo sempre a disposizione se avrete bisogno anche di questo tipo di megafono per una società che dovrebbe sentirsi sempre di più civile e solidale grazie quindi del vostro intervento in questa nostra serie di pubblicazioni grazie anche per il lavoro che state facendo ma grazie a voi per lo spazio che ci avete dato e grazie ai tuoi ascoltatori noi speriamo sempre che ci sia molto più spazio sempre affinché sappiano veramente le cose al carcere a presto grazie buona giornata